Grazie Presidente. Io partirei chiedendo al Vicepresidente di essere più presente in aula perché sono contento di vedere che con la sua presenza tutto il gruppo è in aula e quindi sono molto contento di questo. Tornando invece all'argomento di cui oggi parliamo, io partirei legandomi a quanto ha detto il Presidente Alfieri, io credo che qui non dobbiamo parlare della fiducia al Presidente o al Semi Presidente, il quasi fiduciato Renzi, questa è una sede che deve parlare di altro, incensare il futuro Presidente nominato insomma riteniamo sia fuori luogo. Però va bene, noi non condividevamo questa seduta, lei Presidente lo sa, perché ritenevamo non fosse corretto, però siamo in aula e siamo pagati ai cittadini per porre sul tavolo delle riflessioni e quello che faremo è questo. Ecco, noi ci spaventa questo approccio col quale vengono presentate queste riforme perché sono delle bellissime idee di titolo, hanno delle belle copertine, hanno dei bei titoli ma poi il contenuto è vuoto. Questo Senato delle Regioni, questo Senato dei nominati secondo noi che Renzi vuol fare insomma mi spaventa, ci spaventa perché riteniamo che i padri costituenti quando studiarono la forma di governo avevano una visione e avevano soprattutto un'alta considerazione delle persone che sarebbero andate ad occupare con gli scrani. Invece noi in questi anni, e il Movimento 5 Stelle credo ne sia l'esempio, la risposta, abbiamo soltanto depauperato quei posti, sono diventati dei posti nei quali le persone si siedono, nei quali discutono ogni tanto ma schiacciano un bottone, nei quali utilizzano quei posti per interessi personali, insomma, e questi sono i fatti a dirlo, non di certo noi, insomma riteniamo che sia oggi questo sia il risultato di anni di desolazione, però facciamo un passo indietro, noi ci tengo a precisare, lo ricordo anche il Vice Presidente Mantovani che però ha sicuramente più esperienza di noi in Senato, che noi siamo una Repubblica parlamentare, non presidenziale, quindi insomma è il Parlamento che deve fare delle leggi, è il Parlamento che deve discutere, forse sono troppi, sì sicuramente sono troppi, però sono eletti dal popolo, quindi facciamo questa valutazione, è giusto diminuirli, giusto valutare il discorso del bicameralismo, anche se personalmente, questo lo dico a titolo personale, non la vedo una cosa così malaccio il bicameralismo, perfetto, perché nell'idea di base dei padri costituenti il Senato doveva essere formato da persone mature, esperte, i saggi, non i saggi nominati poi dal Presidente della Repubblica, ma le persone elette dal popolo meritevoli di valutare con un attimo di riflessione quello che veniva fatto alla Camera, quindi questo era un senso secondo noi importante che permetteva di fare anche da collante tra le generazioni, il Vice Presidente giustamente citava il richiamo ai giovani o ai visi nuovi, certo, però è importante ricordarsi anche come in teoria era stato visto il Senato con la Camera, noi abbiamo depauperato questo, noi come cittadini e probabilmente tanti di voi come politici, visto che voi avete un pregresso che noi al momento non abbiamo. Ecco, secondo me, insomma, un Parlamento che va avanti a fiducia e quindi mi domando cosa serve avere tutta questa gente giù a Roma, quello che noi abbiamo sempre detto, perché se va avanti a fiducia, sì, per l'amor del cielo, servono in tanti per avere la maggioranza, diminuiamoli, diminuiamoli, i costi sono alti, al di là del fatto che il Presidente Renzi va a parlare di cifre che sono sbagliate e già questo dimostra, è imbarazzante secondo me, quasi come il Ministro che fece la riforma delle pensioni che non aveva i dati giusti per fare le riforme, ecco, questa è l'Italia, quindi le persone devono iniziare a essere un po' più professionali e non soltanto fare i figli del marketing, però va bene, anche questo, oramai siamo una società che vive di questo e noi chiaramente giochiamo sulla palla anche su questo tema. Il Presidente tra l'altro faceva l'esempio del Ministero dell'Agricoltura, giustissimo, verissimo, facciamo anche un'altra riflessione, come vengono gestiti i fondi europei con questo sistema, io non sono della Lega, ve lo garantisco, però a titolo personale vi dico, ha senso che perdiamo tanti soldi europei perché vanno in regioni che per campanilismo difendono la venuta sul territorio di fondi che poi non vengono utilizzati? Beh, l'idea di portare quelle risorse nei settori o nelle zone più produttive, dato che poi i costi sociali vengono ripartiti, secondo me è un'ipotesi da mettere sul tavolo e ripeto, io non sono assolutamente leghista, però è evidente che se c'è una parte d'Italia che va a una velocità più alta, io non vedo il problema, non mi sento in difetto se dico che forse le risorse bisognerebbe portarle lì e se le regioni saranno forti da poterlo fare, per me non è una questione di tenere il 75% delle tasse che sicuramente è una cosa di facciata, ma è una questione di portare i fondi europei che se no perdiamo incredibilmente, però il problema qual è? Che al Senato, siccome ci sono quelli della Lombardia ma ci sono anche quelli della Sicilia, i senatori siciliani come fanno a tornare a casa dicendo che i soldi li abbiamo mandati alla Lombardia? Allora questo è un problema che deve andare al di là dell'idea politica Lega, destra, sinistra, bisogna guardare l'utilità complessiva che hanno queste scelte per il Paese, senza utilizzare queste forme di operazione per uscire sui giornali e prendersene nella paternità, l'esempio è stato il famoso titolone sulla moneta complementare che qui si faceva con un'ottica di incentivare la crisi, cioè per cercare di supportare la crisi di liquidità ed è diventata sui giornali la strategia comunicativa del facciamo la moneta Lombarda, ecco noi vogliamo che tutti insieme si cambi questa partita, bisogna cambiare l'approccio e secondo noi è fondamentale, l'altra cosa è noi i cittadini li abbiamo informati, cioè se chiedete a un cittadino cosa fa la regione voi gli sapete rispondere, il cittadino sa cosa fa la regione, questo è un problema nostro, la partecipazione che il Movimento 5 Stelle vuole portare e vuole che i cittadini partecipino, i cittadini devono essere informati, noi le regioni per i cittadini sono soltanto un centro di spesa che tra l'altro è discutibile perché i fatti recenti hanno dimostrato che la spesa è sempre stata fatta in maniera pessima, quindi non possiamo domandarci il perché oggi qualcuno stia cercando di far fuoco sulle regioni o su tutto il sistema degli enti locali, l'assist è stato dato dalle precedenti legislature, ad esempio anche con la regione Lombardia, 18 anni di impero del celeste, insomma mi sembra che si siano chiuse in un modo alquanto vergognoso, quindi insomma noi riteniamo, beh la magistratura no, la cattiva magistratura, quindi tornando invece a quello che diceva il Presidente Alfieri beh il disegno del Rio è imbarazzante, è imbarazzante perché anche lì facciamo un titolone su questo disegno di legge al di là del fatto che bisogna fare una riforma costituzionale ma noi facciamo un disegno di legge perché dobbiamo far vedere ai giornali che siamo bravissimi aboliamo le province dato che ce l'avamo tutti nel programma elettorale, il Movimento 5 Stelle in testa, che però è l'unico che coerentemente nei consigli provinciali non si è mai candidato perché la coerenza è diventato probabilmente la merce rara, però scusate quel disegno di legge era una presa per i fondelli che trasformava le province in un ente di secondo livello che non c'era più neanche la possibilità per i cittadini di fare delle elezioni, quindi la democrazia veniva derogata praticamente, quindi cosa serve questo sistema per noi è ridicolo e oggi questa persona dopo questo brillantissimo disegno di legge, visto che in Italia la meritocrazia è dispersa, l'abbiamo nominato a sottosegretario e la prima cosa che dice da nuovo rappresentante del governo parla di alzare le tasse sui bot ma questa signore è una cosa imbarazzante, qui al di là di tutto capite che i cittadini sulla riforma costituzionale come possono approcciarsi a un sistema politico che parla per titoloni vuole tassare, parla di cose che non c'entrano nulla. Tornando al discorso perché oggi stanno sparando sulle regioni, per la credibilità che abbiamo perso e io qua invito i colleghi del PD, la credibilità l'abbiamo persa perché Renzi parla anche di tagliare gli stipendi dei consiglieri regionali perché bisogna togliere lo status di consigliere regionale e quant'altro bene, noi questa cosa prima che arrivasse Salvatore della Patria Renzi l'avevamo proposta con un progetto di legge, ma mi rivolgo soprattutto ai colleghi del PD, non tanto perché Renzi è dei loro, ma perché in campagna elettorale il candidato Presidente Ambrosoli parlò di un impegno con gli elettori di 3.500 euro di stipendio al mese e non lo disse il Movimento 5 Stelle, l'impegno lo prese il Presidente Ambrosoli, però voi arrivati qua e ve li siete tenuti, allora dimostrate al vostro nuovo leader che voi siete i primi che con l'esempio dimostrano che quello che lui vuole fare alle regioni lo applicate già, senza bisogno che arrivi una legge da Roma a imporvelo, dimostratelo coi fatti, il Movimento 5 Stelle questa cosa l'ha fatta, quindi questo credo sia una richiesta che vi arriva anche dai cittadini non soltanto da parte nostra, me la prendo con voi proprio per questo motivo, perché almeno dall'altra parte erano stati coerenti e non avevano detto nulla, cioè bisogna essere onesti, questo è il mio malgrado, perché secondo me la linea è da tenere la stessa. Chiudiamo su un'altra riflessione, chiudo con un'altra riflessione perché poi chiaramente avremo anche altri temi, non è che il rischio di questa volontà di tornare a centralizzare tutto sia perché probabilmente c'è l'interesse di mettere le mani sulle società pubbliche che sono in capo alle regioni, che fanno i servizi, può essere che c'è la volontà di andare a mettere le mani sulle municipalizzate? C'è questa volontà? Perché l'Europa ci sta mettendo l'imposizione di tagliare, di vendere le partecipazioni. Io da giovane, visto che il Presidente Mantovani parlava di giovani, sono un po' stralunato da questa cosa perché in una famiglia quando tu devi aiutare i giovani, il nonno lasciava la casa ai figli, il nonno lasciava la casa ai nipoti, non che gli dico guarda ti vendo la casa, mi rimango 100 mila euro e te ne lascerò 50, no, noi facciamo così, noi svendiamo il patrimonio che dovrà aiutare il futuro, tutta la nostra società per dei brevi incassi del momento che fanno comodo all'Europa e la mia paura è che questo sia soltanto il primo step che vada in quella direzione. Allora quello che noi invitiamo a fare, al di là della proposta reale sugli stipendi per chi ha un Presidente del Consiglio che parla di tagli, e quindi vi invito per l'ennesima volta in maniera anche stressante ad applicarli, a ridare credibilità a queste istituzioni, è così però, l'avete promesso voi, non noi, mi spiace, noi l'abbiamo fatto, quindi noi quello che vogliamo è ridare credibilità perché non si può andare a spiegare ai cittadini che la riforma del titolo quinto va approcciata in un certo modo quando non siamo credibili, informare i cittadini, renderli partecipi, spiegargli cosa fa la Regione, perché se al referendum che ha citato il Vice Presidente Mantovani partecipa neanche il 50% delle persone, poniamoci delle domande, cioè, attenzione, rendiamo i referendum di nuovo interessanti, noi abbiamo presentato un progetto di legge, ad esempio regionale, che chiede la possibilità di avanzare per i cittadini e del referendum senza quorum, senza quorum vuol dire che chi partecipa decide, bene, vedrete che la prima volta probabilmente partecipano in pochi, ma piano piano cambierà, riportiamo i cittadini nelle istituzioni e vedrete che inizieranno a capire anche loro quali sono i problemi da risolvere, grazie.